Ciao, sono Tina Pallotta e sono la consulente dermocosmetica della farmacia di Nardo. È inutile negarlo, far crescere velocemente i capelli e il desiderio di tutte le donne. Spesso però questo ci sembra una missione impossibile. Oggi sono qui perché voglio darti 5 consigli per fare in modo che tu riesca ad avere una chioma da Rapunzel. Allora, il primo consiglio è quello di scegliere un'alimentazione ricca di ferro, di zingo, di calcio e mi raccomando bevi anche tanta acqua. Questo sarà sicuramente uno dei migliori alleati. Il secondo consiglio è quello di fare dei massaggi e degli impacchi perché il massaggio seguito poi comunque dall'impacco è uno dei metodi migliori per far affluire il sangue sul cuoio capelluto e questo stimola poi la produzione capillifera. Come fare questi impacchi? Con l'olio di cocco o anche con l'olio di jojoba? Il terzo consiglio è cerca di limitare, se ti è possibile, la tentazione di tinte, di riflessi e possibilmente utilizza almeno possibile la piastra. Il quarto consiglio è quello di utilizzare un giusto shampoo. Scegli preferibilmente uno shampoo fortificante, ancora meglio se la percentuale di ingredienti chimici è limitata. Non dimenticare poi che è importantissimo proteggere i capelli dal sole in estate e quindi cerca di utilizzare degli spray da mettere proprio prima di andare al mare o durante l'esposizione solare. Segui i miei consigli e se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici. Ciao, a presto!